Prosegue il fenomeno degli abbandoni di rifiuti che vengono lasciati sulle strade, nei fossi, nelle piazzole ed ammassati fuori dai cassonetti. Sono comportamenti incivili e ingiustificati, alla luce dei servizi che Marche Multiservizi mette a disposizione dei cittadini. Una rete di centri di raccolta differenziata su tutto il territorio, un servizio di raccolta a domicilio su appuntamento. Chiama il servizio telefonico clienti al numero 800 600 999 per maggiori informazioni.